I francobolli. I francobolli in effetti ragazzi sono stati per tantissimi anni, soprattutto negli anni 80 e 90, veramente uno degli oggetti da collezione più voluti e più ricercati da tutti i collezionisti. Soprattutto quei francobolli che hanno degli errori di stampa o errori appunto di design e questi fanno sì che il loro prezzo valgono veramente molto molto di più dell'originale. Alcuni francobolli rari possono valere anche alcune centinaia di migliaia di dollari.